Una buona giornata e bentornati a Nuovo Giorno. Come era prevedibile, dopo sei ore di dibattito, la Camera dei Deputati americana ha approvato l'impeachment nei confronti di Donald Trump. Ora la cosa passerà al Senato, a maggioranza repubblicana, anche se la speaker della Camera Pelosi ha annunciato che i due articoli non saranno inviati al Senato, finché non ci saranno garanzie di un processo giusto. Tra l'altro il leader repubblicano McConnell ha affermato che non sarà un giudice imparziale. Il TICON ha replicato sprezzante, non abbiamo fatto nulla di sbagliato, abbiamo l'appoggio del partito repubblicano. Dice Trump, in un comizio in Michigan, questo è il primo impeachment dove non c'è un reato. La cronaca adesso, Max Operazione dei Carabinieri delle Rosse del Comando Provinciale di Vivo Valencia, per eseguire ordini di custodia cautelare a caico di 334 persone e facenti a capo ad una cosca mafiosa. Sono 416 gli indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, istorsione, usura e anche reati aggravati dalle modalità mafiose. A Serra Capriola i Carabinieri hanno arrestato tre persone di origine romena che si erano introdotti nell'abitazione di un'anziana che era andata a fare una visita alla vicina di casa. Decisivo è stato l'intervento di un cittadino che ha chiamato i Carabinieri. Una pattuglia che si trovava da quelle parti li ha immediatamente bloccati. Tutti e tre sono stati posti agli arresti domiciliari. A Cerignola nel Poggiano ieri mattina conferenza stampa della commissione prefettizia che si è insediata da circa due mesi. Si è fatto il primo bilancio di quanto è avvenuto. Ce li riassume in questo servizio Saverio Serlenga. Adriana Sabato ha aperto la conferenza stampa dei commissari prefettizi di Cerignola invitando l'ex sindaco Franco Metta a placare i toni nei confronti di chi ha tutte le intenzioni di risollevare una città che dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose ha tutta la voglia di rinascere. Con i suoi colleghi Umberto Postiglione e Michele Albertini hanno discusso dell'attività svolta in poco più di due mesi dal loro insediamento nella città ufantina. Riflettori puntati soprattutto sulla SIA, l'azienda della nettezza urbana, in piena crisi e al centro di aspre polemiche. Hanno confermato il fallimento e la messa in liquidazione dell'azienda ma hanno altresì annunciato di voler salvare i livelli occupazionali. I lavoratori in attesa di essere assorbiti da Amiupuglia verranno pagati dai comuni dei 5 reali siti dove SIA fino a qualche mese fa operava per la raccolta dei rifiuti. Sabato Albertini e Postiglione hanno poi ribadito che a gennaio verranno appaltati i lavori per la sistemazione del verde pubblico e verrà regolamentata la sosta a pagamento. Infine i commissari hanno garantito massima attenzione alle problematiche cittadine, saranno programmate attività culturali e sociali e tanto verrà fatto anche sul fronte dei lavori pubblici. Quindi non solo ordinare amministrazione. Ed in chiusura alla pagina sportiva il calcio è stato un mercoledì da Serie A. Ieri si sono giocate due partite, una valida per il 17esimo turno del campionato che ha visto il successo sofferto della Juventus a Genova contro la Sampdoria con il punteggio di 2-1. Uno iniziale vantaggio con Dybala, poi il pareggio di Caprari e poi il gol risolutore di Ronaldo. Si è svolta anche un'altra sfida ieri sera ed era valida per il recupero della settima giornata del campionato. Quella in programma al Rigamonti tra Brescia e Sassuolo. Il risultato finale ha premiato la formazione romaniola che ha vinto con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Traor e Caputo. Prima di salutarvi vi ricordo quest'oggi l'appuntamento con Live Sport su Radio TRC a partire dalle 10 per la presentazione degli avvenimenti dello sport ofantino. Oggi alle 13.30 eccezionalmente andrà in onda basket time che originalmente era programmata al mercoledì ma che per il potrarsi ieri della conferenza stampa della commissione web-etizia a Cerinola abbiamo dovuto spostare ad oggi. Prossimo appuntamento con l'informazione di speciale Nemos Web 24 come sempre stasera con una prima serata. Grazie per l'ascolto e a tutti una buona giornata. Grazie per la visione! Grazie per la visione!